Sapete che cos'è il prodotto qui accanto a me? Sono sicura che vi eviterà pianti ininterrotti in caso di rottura dello smartphone. Vi spiego come funziona tra poco qui su Tech Princess. Lui è cambio for smartphone, è prodotto da Toshiba ed è un vero e proprio salva vita. No, non per voi, ma per i vostri dispositivi mobile. Cambio for smartphone svolge infatti una funzione fondamentale, il backup automatico del vostro telefono Android. Collegandolo tramite l'apposito cavo USB e aprendo l'applicazione dedicata a Toshiba Content Manager sarà possibile copiare al suo interno l'intero contenuto del vostro telefono, inclusi video, foto, documenti, musica e contatti. Questo accadrà in modo totalmente automatico. Voi non dovrete far altro che collegare lo smartphone. In questo modo i dati saranno sempre al sicuro e non rischierete di perdere tutto nel caso lo smartphone si rompa, venga perso o rubato, oppure semplicemente sostituito con un modello più attuale. Toshiba cambio for smartphone è però un vero e proprio hard disk. Questo significa che potrete collegarlo al PC per trasferire i file tra i due dispositivi oppure utilizzarlo esclusivamente con lo smartphone. L'applicazione Toshiba Content Manager vi permette tra le altre cose di gestire, copiare ed eliminare facilmente tutti i vostri file. Inoltre questo gadget può essere condiviso tra più dispositivi in modo che tutti i membri della famiglia possano utilizzarlo per eseguire una copia dei dati e mantenerli al sicuro. Grazie ai suoi 500 GB di spazio di archiviazione potrete fare il backup di tutti i membri della famiglia. Le funzionalità di questo dispositivo non finiscono però qui. Cambio for smartphone infatti permette di ricaricare i vostri telefoni mentre effetto il backup dei dati. Potete quindi riporlo sulla scrivania a casa o in ufficio oppure metterlo in valigia per portarlo con voi in vacanza e scattare tutte le foto che volete. Insomma, cambio for smartphone è pensato per coloro che non vogliono mai perdere i propri dati. Per nessuna ragione al mondo. Direi che anche per oggi è tutto. Io vi ricordo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!